Signore e signori buonasera Marco da New York altra puntata su una cosa per me abbastanza strana ovvero il ponte di Manhattan non viene così considerato da chi visita New York però per me vale assolutamente la pena offre una vista sulla baia di New York molto diversa da quella del ponte di Brooklyn quindi cosa facciamo siamo a downtown Brooklyn prendiamo questa pista celabile qui con la mia biciclettina a scassona di qua che io reputo inrubabile lo scocciati giallo apposta mi fa piacere farvelo vedere iscrivetevi qui mi sembra commentate se avete visto il ponte di Manhattan perché per me vale la pena non è così bello come pronte di Brooklyn siamo d'accordo però ci sta meno gente qui ci sta meno gente Grazie a tutti. 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 Ok, perché ci sono i fonte di Manhattan, signore e signori? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque, come avete potuto vedere, non è così affascinante come Ponte di Brooklyn, però non c'è gente in mezzo, uno piglia e pedala a diritto. Comunque a me questa roba industriale da battaglia, meno a me mi garba tanto. Ok, si prosegue. Ok, c'è un motorino grande. Sei qui, ma è un cosiddetto. Ok, c'è un po' di lavoro che c'è un po' di lavoro che c'è un po' di lavoro che c'è. ben mio oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, l'odore di Chinatown inconfondibile. Non so cos'è, se è cavolo bolleco, pesce marcio o depersivo allucinante, però inconfondibile. Buono, fatto, arrivata a Chinatown, presa benissimo. Roba da battaglia, non è propriamente di nuovo così carina e instagrammabile come può essere il ponte di Brooklyn, però mi piace proprio un sacco. Stretta, metallo, rumore, casino, gente che va come le bombe in bicicletta, gente in motorino che ci sia la pista facilabile se ne frega altamente. Praticamente zero, zero, gente in mezzo a farsi le fotografie una dopo che l'altra. Buon, presa benissimo. Lo consiglio assolutamente di fare, foto alla grande, bellissima esperienza, ottima giornata, vado a farmi un pizzino. Non ha preso, non ha a Chinatown ovviamente. Anche no.